Buonasera a tutti e benvenuti al recap ciclico sui due mercati DAX e Fuzzinib per la giornata del 9 luglio. Mi rendo conto che è un po' tardi per fare il recap, ma il tempo è quello che è, purtroppo. Allora, che cosa è successo durante la giornata di oggi? È successa una roba incredibile, decisamente, decisamente interessante, e siamo andati perlomeno a chiudere un T1. Quindi, nonostante una partenza in lap up, una prosecuzione di salita, una ridiscesa un po', poi un riaggiornamento di massimi, in cui, peraltro, siamo andati a violare uno swing di estremamente importante, quello a 12.670, i volumi poi non ci sono stati. Finta clamorosa, giustificata dal fatto che, peraltro, qui si è chiuso un T1 inverso e partenza del secondo T1 inverso, con discesa faraonica sotto, peraltro, i minimi della giornata precedente. E quindi a chiudere il T settimanale, a 11 T-3, massima durata, nonostante una violazione temporanea di un primo swing. Una roba favolosa, per chi è rimasto in overnight ancora un po' short, magari con una piccola posizione. Presente. Adesso, però, abbiamo un problema, o almeno un'opportunità nella realtà dei fatti. Vi faccio vedere anche il grafico con, appunto, il target dato dall'algoritmo 12.473, che è stato ampiamente preso, e, dato che abbiamo fatto 459, abbiamo sbagliato i 14 TIC su 12.459. Da ridere. A parte tutto, dato che T, T più 1, T più 2, dato che, teoricamente, la media mobile del T più 3 passa qua, noi non abbiamo più tempo. Questo T più 1, ve lo faccio vedere qua, questo T più 1, è già arrivato alla bellezza di 8 più 10, 18 giorni. Peraltro, con la scansione temporale che ho, siamo già all'undicesimo T-3, per cui, non c'è più tanto spazio per una discesa. Per cui, mi chiedo che cosa si potranno inventare per arrivarci? Faremo un raccordo se ci vorranno arrivare? Perché, se no, come sapete, il discorso è che qua, da questo minimo, può essere partito, appunto, un secondo T più 3. Perché, comunque, temporalmente, una chiusura di T più 3, qua ce l'abbiamo avuta. per l'analisi ciclica evoluta, non per la ciclica normale. Vi faccio notare che, peraltro, qui, non siamo riusciti ad andare in death cross, in nessun modo, ok? Sul time frame a 15 minuti. Mentre, su quello giornaliero, siamo per andare in golden cross. Queste sono tutte considerazioni di cui tenere conto, dato che adesso siamo tornati flat, dopo l'ottimo guadagno con lo short, e quindi, domani sarà una giornata campale. Primo perché, è già venerdì. E quindi, nel pomeriggio, sarebbe assurdo, a cui io, almeno che non ci siano delle opportunità pazzesche, una posizione in overnight per tutto il weekend. E sappiamo anche perfettamente perché, perché abbiamo visto di tutto, ok? Finte di tutti i tipi, in questi ultimi giorni. Nella realtà dei fatti, anche se ci fosse una violazione di spingi importante domani, io sarei cauto. Sarei estremamente cauto. Per cui, tenderei a fare ciò che Gunn suggeriva, attenderei un movimento importante per capire se riposizionarmi long, anche se in realtà, teoricamente, ci manca la chiusura del t più tre trimestrale. E quindi, ci manca ancora una parte di discesa. se volessimo fare la canonica, dovremmo, come sempre detto, andare qui sotto, 11.957. Però, qui il tempo, sul t più uno, non c'è più. Il tempo, sul t più due, è vicino ai massimi, perché, in realtà, abbiamo soltanto più cinque giorni per arrivare a 43. Per cui, o ci mettiamo un raccordo, per finire qui sotto, come detto, oppure, non ci arriviamo, non ci arriviamo come t, non ci arriviamo come t più tre, non ci arriviamo, in nessun modo proprio. Per cui, sono estremamente curioso di capire che cosa vorranno fare. La curiosità nasce dal fatto che, quando non si hanno posizioni, dopo aver guadagnato, è stimolante vedere il mercato, perché, se si arrivasse effettivamente qui sotto, sarebbe solo per un effetto di un raccordo, non ci sono altre possibilità. se invece non ci si arriverà, fortunatamente, l'evoluta ci dice che da qua può essere partito un nuovo t più tre, sia in termini di tempo, che in termini di determinate altre cose. L'evoluta no. Cioè, l'evoluta sì, la ciclica base no. Per quanto riguarda il fuzzinib, passiamo qua, anche qui, fantastico, decimo t meno tre, ribassista, stessa identica cosa qua per il nono, nonostante avesse provato a tenere, e qui siamo andati invece in death cross, si è ribaltata la situazione rispetto al Dax. Divertentissimo. E oltretutto abbiamo 1, abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, quasi 6, abbiamo tutti 5 t meno 3 a ribasso, un corpo unico a ribasso. Dal sesto t meno 3 in avanti abbiamo un sottociclo simile a un t meno 1 a ribassista. Anche in questo caso, però, teoricamente, dovremmo finire qua sotto se volessimo chiudere il t più 3 trimestrale. Ve lo faccio vedere sul grafico a candele giornaliere. Se volessimo ragionare solo ed esclusivamente in termini di giorni, ci basterebbe dunque 1, 2, 3, 4, 5, 6, dovremmo finire qua sotto, sotto il 19.013. Mentre invece, per l'analisi ciclica regolare, dovremmo andare a finire sotto il 18.378. A meno che, esattamente come detto prima, ma solo per l'analisi ciclica evoluta, non per la ciclica canonica, qua, non si sia già chiuso il nostro t più 3 trimestrale. Fatto a tre tempi, peraltro. 1, 2 e 3 t più 1. Con una chiusura che va bene per la ciclica evoluta, ma che non va bene per la ciclica normale. Qui abbiamo ben più di un un t settimanale ribassista. A 6 giorni anche soltanto. Per cui sono veramente, veramente, veramente curioso di vedere che cosa faranno domani, lunedì e martedì. se faranno questo benedetto raccordo, ovvero, torniamo su DAX, una finta rialzo e poi una discesa sotto questi 11.957. Oppure che cosa si inventeranno? Perché di finte ne abbiamo viste veramente tantissime. Anche oggi è stata una roba fenomenale. E' una roba fenomenale finta di violazione del nostro swing. Non una volta, ma ben due volte, oltretutto. e poi collo come d'attese per l'analisi di oggi. spettacolare, davvero. Rimanere con un cheap shot in overnight mi ha fatto un po' paura sinceramente oggi, ma poi è stato fenomenale in chiusura di giornata. Davvero una soddisfazione gigantesca. Questo è quanto. Ci riaggiorniamo prima dell'apertura del mercato. e se l'analisi vi è piaciuta mettete un bel like, sottoscrivete il canale intanto è gratuito, mettete un... anzi, cliccate sulla campanella in modo da vedere quando uscirà la prossima analisi. Questa è stata troppo fantastica, davvero. So che non si può dire, ma comunque fantastica. Niente da fare. Buonasera da tutti. Buonasera da tutti.